Musica Guarda con amore i tuoi fedeli che hanno preparato questa immagine del Beato Rosario Angelo Libatino amico ed erede di Cristo, fedele testimone del Vangelo donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della tua gloria, per Cristo nostro Signore Amo Ho con l'augurio che questo momento possa essere un punto nella nostra memoria e quando si dovesse sbiadire nella memoria abbiamo anche un luogo dove poter comunque fissare lo sguardo e ravvivare questa memoria questa memoria degli uomini, maschi o femmine che siano che tante volte dimentica delle lezioni del passato delle lezioni della storia allora è bene rinvertire sempre questa memoria perché possiamo per davvero imparare da chi sta prima di noi per poter continuare a operare il bene fidando all'altro magari del raccolto nel futuro e anche su di noi, su tutti i credenti sull'uomo e delle donne di buona volontà scenda la benedizione di Dio Unipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Amo Buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti